Ma che cos'è il successo? Io penso che sia una sorta di maledizione. Sbavi per averlo e quando ce l'hai lo devi mantenere altrimenti oppure non lo raggiungi mai e continui a sbavare mentre la speranza diventa il deserto dei tartari. Cos'è? Un'autoaffermazione sugli altri, una consacrazione in un mondo parallelo? Io ci sono andato vicino qualche volta ma ne ho avuto paura. Significava perdere troppe cose che per me erano importanti e non ho avuto il coraggio di andare oltre. Col senno di poi, avendo conosciuto meglio il Renatino dentro di me, ho capito che non potevo fare altrimenti e mi sorrido. Grazie a Dio sto invecchiando. È il podcast di Renato Pareti disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Credo che i Beatles abbiano influenzato la composizione di tanti musicisti. Io ne ero davvero innamorato. Sono stati geniali, innovatori, costruttori di melodie eterne. Il meglio che la musica moderna abbia avuto. Avranno avuto collaboratori di primo ordine, senz'altro, ma niente intacca la loro unicità. Tante mie composizioni degli anni 70 sono state influenzate dal loro stile. Anna da dimenticare, per esempio. E anche Jenny. Paul McCartney cantava Oh, oh, darling. E a me venne una musica che, pur non avendo nulla a che fare come note e armonia con l'ispirazione primitiva, ne risentiva l'influenza. In quel periodo ero impegnato con l'album Pareti di Renato Pareti. E i testi li faceva quello che era anche il mio produttore, e cioè Alberto Salerno. Normalmente l'autore delle parole parla molto col compositore della musica. E, soprattutto quando quest'ultimo la canta, anche, è indispensabile sapere almeno i suoi tratti caratteriali. È un modo importante per cucire le parole sul personaggio e renderlo più credibile al pubblico. Di solito nasce un'amicizia tra i due, e quella con Alberto dura tuttora. Il mio gusto per il proibito, per la disobbedienza, per essere diverso in qualche modo, lo incuriosivano e proprio dai miei, chiamiamoli difetti, nacque Jenny. È la storia di una lolita che all'improvviso arriva e sconquassa ogni isola di pace. Terminato l'album, occorreva scegliere la canzone di punta per la promozione. E subito Alberto indicò Jenny, ma io non ero d'accordo. Secondo me, non rappresentava l'album nella sua totalità. E c'erano canzoni che mi sarebbe piaciuto di più far conoscere, tipo 2036 dopo Cristo. Ma Alberto fu irremovibile, e lo ringrazio ancora adesso per quella scelta. Io avevo il gusto del proibito, lui invece aveva il gusto del successo. Sin dalle prime trasmissioni in radio, la canzone piacque subito, e in molti iniziarono a richiederla. La Fonicetra mi fece fare un video e un passaggio televisivo a Domenica Inn. Fu inserita nella manifestazione estiva il free show estate, e da come venivo accolto ad ogni esibizione, mi rendevo conto che il successo stava proprio lì vicino. Ma al massimo della faccenda successe al festival di Pesaro, dove improvvisamente iniziarono le richieste di autografi e le urla delle ragazzine quando cantavano. Stavano succedendo davvero delle cose strane. All'uscita del palazzetto dove avveniva la manifestazione, mi ritrovai di fronte uno schianto di marchigiana che estrasse da una maglietta fina e quasi inesistente, una super tetta rigogliosa e con una penna mi disse, firma qui. Il seno era molto pesante e dovetti sorreggerlo con la mano sinistra per scrivere bene. Cari amici, ero davvero imbarazzato. Fermai su quel tenero velluto e sorrisi, passando ad altri autografi meno esigenti. Intanto pensavo, ma se succede una cosa del genere a me e non non son nessuno. Cosa succede ai Poo, Totocutunio, Baglione? Se da un lato tutto questo mi faceva anche piacere, dall'altro ne ero un po' intimorito. Quando alla fine dell'estate risultai vincitore del free show, in base ai voti delle varie radio libere di tutta Italia, rimasi addirittura sballordito. Si fecero sotto vari impresari per propormi serate e anche un tour. Mi sentivo stordito. Non mi ci vedevo proprio dentro in tutto quel rumore e per la prima volta capì la resilienza di Lucio Battisti. O forse me la stavo facendo sotto. Pensai a tutto ciò che costituiva il mio presente e che avrei dovuto senz'altro trascurare. La mia bimba che aveva solo due anni, l'orto, i funghi, dormire nel mio letto in cambio di notti negli alberghi, mangiare sempre al ristorante, tornare a casa per ripartire subito. No, 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 no. Declinai tutte le offerte momentaneamente, dicendo ci penserò, fatemi riposare adesso e partì per funghi. Nel silenzio del bosco, mentre i porcini venivano alla luce davanti ai miei occhi, capì davvero che non ero quello che volevano gli altri e che non avrei potuto nemmeno spiegare loro bene i motivi. Perché non mi avrebbero mai capito. Ad essere sincero, non capisco come facciano a fare ancora tour ogni anno i vari vecchioni, Baglioni, Vascorossi, Morandi e tanti altri che non si riposano mai. Ma avete i miliardi, andate in vacanze e riposatevi un po'. Il successo è proprio una malattia. Ognuno ha la sua vita e questa è la mia. Ora che sono un vecchietto mi dico, hai fatto proprio bene. Anche se... non è peccato grave, far dei piccoli pensieri su te.